ciao a tutti bentornati sul canale oggi si registra un nuovo video e siamo tornati nella location classica garage avilone tutto e soprattutto sulla mia di moto su quell'elmi fratello e oggi facciamo un video perché voglio andare a controllare ci sono state installate anzi installati degli spessorini di gomma qui nella griglia tra la griglia e il radiatore dell'olio perché siccome ho avuto una disavventura un mesetto fa verso san marino ho dovuto cambiare il radiatore dell'olio e secondo me quando è stata rimontata la griglia di protezione non ci hanno rimesso gli spessori in gomma naturalmente gli originali e nella griglia non c'erano non ci sono più ora utilizzerò questo e per smontare e rimontare tutto mi affiderò alle istruzioni di evotec performance bene ora naturalmente bisogna smontare questi e il muso soprattutto proviamo per smontare i fianchettini questo e questo bisogna prima le varie villa over dove si trova il pulsante di emergenza in caso uno o perde la chiave si scarica batteria poi si svitano queste due viti e questo si si fa scivolare e viene via e poi si va a smontare questo quanto vi faccio vedere tutti i passaggi di viva e si fa prima allora questo è tobia abbaia allora mi dicevo da nevare la cover del pulsante emergenza svitare le due viti questi vi si sfilano poi lo destra e sinistra prova svitato questa parte di plastica sotto il becco e poi sono queste altre quattro brugoline il gioco dovrebbe essere fatto vi ho scritto al cosa perché la griglia avevo montata io paio d'anni fa anche tre forze attenzione che nel nel becco c'è collegato il sensore della temperatura poi ci andrò a mettere questi spessorini e poi si rimonta il tutto andiamo e lavorando una mano sola non è facile scrivi sono già avvantaggiato lo allentate tutte questo è un po più complicato perché c'è portatelefono se lavora bene uguale era vado a smontare i fianchetti una volta svitate tutte e quattro le brugoline nessuna questione vanno sfilati così i fianchettini io ho sempre questo ciotolino calamitato pesa l'idea è comodo perché tanto so broccione sennò li perderei tutte le volte primo fianchetto levato un'operazione semplicissima basta praticamente scorre in avanti e si sgancia però con la mano ce la faccio le vasi tutte e due ora bisogna smontare questa parte la parte in plastica sotto elevata vi tengo le vasi in questo modo si mi ricorda e questa va qua su questa sulla sinistra e questa sulla destra faccio vedere senza così e ora si procede a allevare 1 2 e le altre due dall'altro lato 4 bucoline svitate occhio quando le svitate queste hanno faccio vedere queste rondelline di plastica occhiando svilare a non perderle tirando ora in avanti il muso si dovrebbe si dovrebbe un parolone ora provo eh alla muso scollegato occhio a questo filo che è il filo della temperatura come dicevo prima ora vi faccio vedere ho fatto questi quattro pezzettini e ora vado a mettere tra la griglia e il radiatore spesso rimessi si vedono se questo lì ora procedimento di montaggio è il contrario sarà un po da tribolare ma ci provo è tanto c'è da rimettere il muso ecco si vede la mia ombra ma insomma becco rimesso ora pulisco un po e poi riavvito tutte le visi la parte qui sotto queste queste tutto le quattro brugoline rimontate come dio sempre quando poi le riavvito ci metto sempre un pino di frena filetti medio non tantissima una gocciolina giusto per sicurezza visto che dio nei due lati perdono le visi meglio aver paura e buscanne ora si dà una pulitina tutto via poi rimonto il resto prima di richiudere tutto controlliamo moltissimo errori già si accende e già siamo un buon punto sembra di no questo è il cavalletto questo lì i suoi spie neo tra le olio ma che stile ampeggiano che devono ampeggiasche sembra tutto a posto anche la parte sotto la montata si ricordava un pino più complicato invece da un stato proprio malvace da rimonta due fianchettini da una pulitina anche a fianchetti il residuo di poveri animali morti e niente dai come si è visto il quadro è tutto a posto rimonto questi due trilli e di nuovo a posto rimontato tutto fianchiatine tutto qui è perfetto prima sentiva un leggero rumore metallo perché naturalmente toccava ferro ferro i ragazzi mi hanno montato il radiatore non l'avano rimesso sti spessori però avevano messo dei fascetti su in cima per tenere più ferma la griglia sì che dai poggi e bua fanno pari io ho perso un'oretta di tempo ma tanto non c'erano da fa niente e sì che niente a posto che ho rimesso coperchietto questo si rimette a posto e che sempre utile che vi dico inquadratura ormai non uscite bene segnatevi al canale ci si vede presto ora sabato purtroppo silvia va al lavoro a me mi toccherà andare a moto da solo insieme a un po di amici metterò qualche foto sia su instagram anche sul profilo instagram di rete in tour e sulla pagina di facebook mettete mi piace il video iscrivetevi al canale bravo ma sempre a presto ciao se mi ero scordato se a volte avete bisogno delle info per smontare anche le fiancatine queste vi vi faccio vi mando le slide questo è per radiatore dell'acqua questo è per radiatore dell'olio ciao ciao mi ero scordato mi era accorto e non vi avevo salutato non avevate visto lo so che ci tenete lei mia golona bene ciao ciao questo è davvero l'addio alla prossima ciao segnatevi ciao